23 settembre 1916 nasceva Aldo Moro e nel centenario della sua nascita il mondo politico istituzionale e ancora di più civile lo ricordano con una serie di eventi. Nato in Puglia, precisamente a Maglia, in provincia di Lecce, da genitori originari di Gemini, frazione di Ugento, Moro è stato un politico, accademico, giurista italiano, due volte presidente del Consiglio dei Ministri, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, tra i fondatori della stessa e suo rappresentante alla Costituente, ne divenne segretario nel 1959. Fu più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra, fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo dalle Brigate Rosse. La sua terra natia, la Puglia, lo celebra oggi con una serie di appuntamenti, incontri, eventi e convegni. È nostro dovere ricordare Aldo Moro, consapevoli e orgogliosi di vivere nella regione che ha dato i Natali ad una delle più importanti personalità della storia recente del nostro paese, ha detto il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, ricordando il suo impegno per costruire equilibri più avanzati nell'arrargamento dei confini della nostra giovane democrazia. In quella lunga stagione di tensioni, gli mantenne sempre fermo l'obiettivo di avvicinare i cittadini alle istituzioni e la politica, dice Loizzo, quale premessa per completare il passaggio a una democrazia compiuta e per la realizzazione di un'alternanza di governo. E a Barletta, città che le ha già intitolato la più importante piazza, un tempo piazza Roma, in occasione del centenario della nascita di Moro, la Giunta ha approvato la posizione di una targa nell'omonima piazza in memoria del politico. Barletta è riconoscente al contributo offerto all'affermazione dei valori di democrazia, libertà e legalità come imprescindibili condizioni per la crescita della società civile.